Carloni, Carloni, ecco, rinuncia? Allora, rapidissimamente, voglio dirle, Presidente, non voglio rinunciare, no, perché la proposta di deliberazione 14, secondo me, non serve a mantenere una coesione sociale, come è stato detto, anche perché tutto sembra oggi, tranne che un consiglio regionale è di una regione. Questa è l'assemblea delle marche, e in questo nome, al plurale, oggi c'è la manifestazione di quanto siamo diversi su questo territorio, e non c'è un'unità di intenti, non c'è un'assemblea legislativa di una regione, va in scena un consiglio delle marche, ognuno di noi rappresenta un territorio, e questa è un'assemblea talmente pluriforme che di fatto non è un corpo unico di un'istituzione, questo è l'elemento che si registra oggi. Io ho sentito con piacere il consigliere Romagnoli fare una proposta sensata, di cercare di non arrivare a questo voto con cinque proposte sul tavolo, evitare questa brutta figura che stiamo tutti facendo, così come non c'è stata un'unità di intenti al Cal, così come non c'è stata un'unità di intenti in Commissione Affari Istituzionali, almeno evitiamo di spaccarci nel voto facendo una conta che rischia di essere soltanto a danno dei cittadini. Fermiamo i lavori se serve, troviamo una risoluzione unica, e mi sembra che quella che ha detto il Vicepresidente Petrini sia la più intelligente, quella più o meno sostenibile da tutti, e quindi su questo credo che almeno evitiamoci questa brutta figura. Quando anche, come è stato già detto, il Governo ha già deciso, c'è già un decreto alla firma per cui questa discussione risulterà inutile, quantomeno non diamo un'immagine all'esterno di questa totale divisione territoriale e istituzionale. Non siamo in grado nemmeno di fare una proposta, abbiamo visto più proposte, cinque, di cui alcuni chiedono una partenza dal basso, come ho sentito dire da Comi e da Ricci. Come si fa a pensare che ci possa essere una partenza dal basso, quando dal basso ognuno difende i suoi interessi? E' come chiedere ai capponi se vogliono festeggiare la festa di Natale? E' impossibile. Questa è una decisione da prendere con senso istituzionale, da un'assemblea legislativa e non dai consiglieri delle Marche. Grazie.